Loro due che li vediamo qua, che stanno per sempre, per sempre, nel nostro cuore e nella nostra mente. Vuoi fare pure un applauso per tu? Paolo Borsellino, Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone. E non seguire i cattivi maestri che ti dicono che fai tutto bene, perché non è tutto bene la mafia. E tu vedrai, vedrai, scusami, sono un coglione che ti parla di cose stupide. Però tu, continua a fare quello che vuoi fare, però tieni a mente anche questa cosa. Leggiti la storia dei grandi siciliani, ok? Ascolti? Sì, sì. Lo fai? Sì, sì. Bravo. Vuoi dire qualcosa? Sì. Di. Queste persone che hanno fatto questa scelta di vita, lo sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce, ci deve piacere anche la mano. Ma che sì? Come ci piace il dolce? Anche la mano. Ma a chi ti riferisce? Ascolta un attimo, ascolta un attimo, ascoltami a me, studia la storia, che fra vent'anni sarai una persona tanto, tanto meglio e migliore. Sì, questo non lo metto. Ci credi a quello che ti dico? Sì, sì. Grazie. 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 Grazie.